Un carabiniere e sua moglie ricevono la notizia che la loro domanda di adozione è stata finalmente accettata. Il centro adozioni gli informa che c'è un bellissimo neonato giapponese in cerca di una famiglia e loro, dopo un breve colloquio, si dichiarano disponibili ad adottarlo. Ritornando a casa si fermano presso una scuola di lingue dove chiedono informazioni e riempiono un paio di moduli. La segretaria della scuola, un po' stupita, chiede, scusate la curiosità, ma cosa vi spinge ad imparare il giapponese? Il carabiniere, pieno d'orgoglio, risponde, sa, abbiamo appena adottato un neonato giapponese e tra circa un anno, quando comincerà a parlare, vorremmo essere in grado di capire quello che dice.